Cilento, Salerno, scavi di velia accessibili ai disabili, Cristian D'Urso, fatti passi avanti ma ancora c'è da fare. Gli scavi di velia, la torre e il museo a monte sono raggiungibili? Quasi, rispetto alle segnalazioni precedenti è stato fatto un passo avanti. Lo scrive in un post sui social Cristian D'Urso, trentenne disabile cilentano, di cui abbiamo parlato di recente perché due università gli hanno negato la possibilità di sostenere gli esami online. A maggio di quest'anno era totalmente irraggiungibile la parte più alta degli scavi di Elea Velia per una persona con disabilità che si spostava su sedia a rotelle. In seguito alle numerose segnalazioni che ho fatto, e proprio giusto in occasione della visita del ministro della cultura, è stato realizzato un sentiero in terra battuta accanto alle scalinate, spiega D'Urso ora gli scavi di Velia sono più accessibili ai disabili. Il parco archeologico si è dotato anche di una sedia a rotelle più adatta per gli sterrati.